Oh jeez, here we go. Federico, Aldo e Fabrizio. In the same room. What is this? A crossover episode? You know, that gets funnier every time. Bentornati al spin-off. Questa è la 1x10. Attenzione, siamo passati in doppia cifra. E per l'occasione continuiamo con la seconda parte dei bellissimi di recent serie. Tre serie discretamente nuove che vi consigliamo. Questa è la seconda parte. La scorsa era la 1x08. Ovviamente abbiamo dovuto fare una puntata di pausa per via degli Oscar. Altrimenti qualcuno ci schiaffeggiava. Qui sono sempre Federico da Berlino. È tornato l'inverno nel frattempo. Se ricordate c'era sole quando gioivo per la sconfitta del cane e del suo potere. Ho il piacere quest'oggi di dare il benvenuto a una persona che abita nella provincia di una città che è gemellata con Shenzhen. Aldo. Vabbè, ringrazio. Non lo so. Ringrazio cautamente. Sì, salve. Invece, dalla città gemellata con Shenzhen, Fabrizio. Ah, ecco il plot twist. Ciao a tutti. Scusa, ma per la proprietà transitiva sono gemellato con Brescia. No? Non è ufficiale, però sembra di sì. Quindi, dopo aver scoperto che le vostre due città sono gemellate con Shenzhen... Non guarderò più con gli stessi occhi Fabrizio adesso, cambia tutto. Come si chiamano gli abitanti di Shenzhen? Shenzhen. Inghinesi. Shenzhen. Shenzhiati. O scienziato. Vabbè, vai. Ok, dopo questa allegra digressione su Shenzhen e le varie città gemellate, Fabrizio, qual è la serie che vuoi consigliare ben sapendo che ne abbiamo già fatte tre che vengono da HBO? Vabbè, allora adesso direi di passare da Sky ad altra piattaforma, a una roba che hanno sicuramente tutti, che io so che la prossima serie che voglio consigliare è stata distribuita da Netflix. Partirei dicendo qualche nome in modo tale che si possa già capire in che direzione stiamo andando. Già dicendo Ryan Murphy io credo che ci sia già un'idea della tipologia di show che andremo a vedere. Un brivido freddo Allora, io ho amato questa miniserie nonostante lo stile di Murphy in molte delle sue serie che seguo. Quando penso a Ryan Murphy penso all'American Horror Story e penso ad uno stile molto, molto, molto estremo, esagerato, ma volutamente esagerato che deve far vedere più di quello che in realtà secondo me dovrebbe effettivamente mostrare. c'è sempre una tendenza ad esagerare nei suoi lavori che solitamente si conclude con un semplice risultato un inizio fantastico dove vengono messe in campo un sacco di cose interessanti strane che uno dice madonna mia cosa succederà qui e sistematicamente proprio sistematicamente ogni singola stagione finisce per rovinare tutto negli ultimi due, tre episodi perché non è capace a gestire tutte le cose che effettivamente butta nel calderone in questo caso però nonostante lo stile sia il suo si vede la serie viene elevata da una storia che comunque è interessante nella sua tra virgolette banalità poi tego perché banalità e da il suo protagonista Eva McGregor che interpreta qui lo stilista Roy Alston appunto la serie è Alston l'avevo detto il nome della serie oppure ero partito così non avevo detto la serie sai che mi sa di no non l'ho ancora sentita beh dai non è male dopo circa due minutini di presentazione poi dico il titolo così almeno uno sai è sorpreso quindi continuiamo continuiamo da dove avevamo interrotto Roy Alston è uno stilista che è diventato particolarmente famoso negli anni 70 all'inizio degli anni 70 quindi già sappiamo che affronteremo una storia che si svolge almeno dagli anni 70 in poi ovviamente con qualche scorcio di infanzia eccetera e che si conclude poi negli ultimi anni di vita dello stilista che sono intorno agli anni 90 quindi più o meno si ripercorrono questi anni della sua vita la storia come dicevo prima è banale perché pur essendo una storia vera è una storia che si rifà a molte personalità dello stesso tipo quindi ascesa declino droga malattia morte tendenzialmente questa qui è sempre la storia e come succede sempre in questa tipologia di storie il passato del protagonista offre degli spunti quasi fiabeschi con questo bambino intento a decorare i cappelli e i vestiti della madre e della sorella fin da bambino ha mostrato questa propensione a migliorare a creare capi d'abbigliamento utilizzando materiali di recupero presi per la casa la storia ovviamente non stiamo a raccontarvela perché uno ve la potete leggere su wikipedia se proprio siete interessati due io solitamente procedo all'inverso se una storia non la conosco prima mi guardo la serie o il film e poi mi vado a vedere tutti i vari particolari per apprezzare la pellicola anche perché se no è spoiler no? eh dai esatto voglio dire è uno spoiler oramai viene come dicevamo prima con Aldo anche uno spoiler di una serie finita 15 anni fa potrebbe essere pericoloso se detto così a cuor leggero questo quindi non diremo molto della storia però uno l'interpretazione di Evan McGregor è un'interpretazione magnifica ricorda secondo me la sua interpretazione in I love you Philip Morris colpo di fulmine il mago della truffa allora ha senso il titolo perché si tratta di Jim Carrey che è questo mago della truffa un truffatore però non vedo proprio perché rovinare quello che era poi il messaggio dietro a questo film che c'era questo amore proprio tra Evan McGregor e Jim Carrey che in quell'occasione recitavano la parte di uomini omosessuali e in questo caso mi ha ricordato molto quel tipo di interpretazione so già che si va sul sicuro lo sapevo già che sarebbe stato un personaggio fantastico la storia come ho detto prima non è delle più originali perché ci si aspetta tutto quello che andrà a succedere la chicca che voglio citare qui è che come sapete in Spagna traducono qualsiasi titolo tipo Squid Game l'hanno ovviamente tradotto è il polpo è il giuego è il giuego del calamaro è il giuego del calamaro porca sei vicino alla fine è quella lì dovevano fare come noi e limitarsi a non tradurre niente però noi avremmo dovuto fare il gioco del calamaro l'avremmo fatto suona anche bene però ho capito il gioco del calamaro sembrava veramente uno di quei giochi tipo non so giochi senza frontiere è una roba che guardi in television mi aspettavo te un mammucari che faceva e i net stevens che faceva lo stacchetto tra un gioco e l'altro sì il gioco del calamaro non suona bene ma citavo gli spagnoli che traducono qualsiasi cosa perché invece I love you Philip Morris è rimasto I love you Philip Morris mentre in Italia abbiamo deciso di cancellare qualsiasi cosa che riguardasse il titolo originale per dargli questo barobrio l'abbiamo proprio con i film con Jim Carrey se c'è Jim Carrey solitamente tendiamo a rovinare il titolo del suo film come Eternal Sunshine of the Spotless Mind esatto che noi invece abbiamo tradotto con questo titolo alla muccino rovinando tutto quanto e di nuovo qua appunto Jim Carrey che fa un altro ruolo della Madonna e sbamano deciso che no perché perché valorizzarlo ci sarà Jim Carrey sarà una stronzata chiamalo così chiamalo così così almeno ritornando al tema Halston ripercorre le vicissitudini di questo di questo stilista divenuto famoso principalmente per aver collaborato con grandi artisti come l'amica Liza Minnelli presente anche in questo film e interpretata dall'attrice Krista Rodriguez che tra l'altro la ricorda molto devo dire la verità ricorda molto Liza Minnelli da giovane ma anche personaggi come Andy Warhol tutti personaggi comunque conosciuti nell'ambiente del jet set dei locali come lo studio 54 e la serie segue quindi anche le avventure dal punto di vista lavorativo e come spesso succede quando il successo arriva inaspettatamente tutto d'un botto è facile perdere un attimino la strada e infatti la parabola di Halston è decisamente discendente ma a parte eventuali spoiler su come si conclude e tutto quanto una delle cose che mi ha incuriosito molto è stata la scelta poi diciamo criticata in quel momento di Halston di vendere i suoi modelli a una catena di negozi di abbigliamento per famiglie diciamo economiche serve jc penny sono queste enormi catene di vestiti all'interno della quale appunto svettava questa collezione Halston che era una collezione di classe ma affrontabile a livello economico quindi anche da persone non necessariamente abbienti che è stata poi l'inizio di una decisione che ormai viene compiuta da un sacco di stilisti di affidarsi anche alle catene di rivenditori di questo genere per poter raggiungere un pubblico maggiore offrendola la merce a un prezzo ridotto sono solo 5 episodi comunque o sbaglio? si 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 è una mini serie di 5 episodi infatti è un'altra di quelle serie che come abbiamo consigliato fino adesso può essere recuperata in brevissimo tempo a noi ci piace consigliare mini serie sono quelle che secondo me la gente apprezza maggiormente sono stupefatto perché è una serie di netflix di Ryan Murphy solo 5 episodi invece che 10 è quasi impossibile devi anche considerare che però in questo caso la serie non si è rovinata clamorosamente sul finale come succede di solito quindi forse il segreto era tagliargli il numero degli episodi prima che incominciasse a fare cazzate forse era questo qui il vero segreto per risolvere l'enorme problema che si porta dietro Murphy da boh quanti 15 anni con American Horror Story forse se non sono 15 sono 12 non è che è una cosa del genere accantonato Halston che comunque consigliamo Halston e la sua dipendenza dalla cocaina mi è giunta a voce che invece sempre parlando di droga Aldo dalla periferia di Brescia siete esperti infatti la serie che vuoi consigliare è collegata esatto è DOPSIC serie Hulu 8 puntate andate in onda tra ottobre e dicembre dell'anno scorso se ti interessa sempre a proposito dei titoli che vengono storpiati invece che lasciarla solo col nome DOPSIC l'hanno chiamata DOPSIC dichiarazione di dipendenza o i brividi che titolisti ragazzi che titolisti in Italia non capisco con che coraggio la gente decide di aggiungere titoli a qualcosa che i creatori originali hanno detto non c'è bisogno teniamo solo DOPSIC invece no gli italiani dicono va aggiungiamo qualcosa che ti dico anche questo DOPSIC in italiano l'ha chiamato dichiarazione di dipendenza sullo stesso tema sempre sulla crisi degli opioidi in America è uscito un film con Gary Oldman che è uscito con il nome Crisis perché racchiudeva il crisi in Italia è arrivata con il titolo di confini e dipendenze confini perché il film tratta dell'espatrio dell'eroina dell'oppio dall'America al Canada quello è il confine tutta gente che ha ancora un lavoro spero di no allora DOPSIC è tratta dall'omonimo libro che ha il titolo DOPSIC Dichiarazione di dipendenza per fortuna non hanno scelto di tradurre il titolo del libro perché altrimenti sarebbe stato DOPSIC dottori spacciatori e farmacie io avrei apprezzato almeno erano coerenti una serie con un cast di tutto rispetto perché abbiamo Michael Keaton c'è Peter Salsgaard Michael Stuhlberg Stuhlberg e Rosario Dawson Michael Stuhlberg e Jimmy Baxter di Your Honor adesso posso tornare a parlare di oppio ma torniamo alle cose serie parliamo di oppio l'arrivo dell'oxycontin sul mercato nel 1996 rappresentò di fatto l'ultimo fattore per dare in lato un processo catastrofico fu il famoso tassello del domino che fa precipitare tutti gli altri innescando una catena di conseguenze di cui si stanno sentendo ancora oggi i danni a cavallo tra gli anni 80 e 90 i medici americani erano spesso oggetto di critica da parte di servizi giornalistici ad hoc per il loro poco interesse nei confronti della gestione del dolore del paziente erano dolori questi spesso volentieri cronici perché nello stesso periodo sempre negli anni 80 e 90 aveva raggiunto la mezza età quella generazione che viene solitamente definita come quella dei baby boomers quindi ricapitolando abbiamo dei medici che sono più inclini a gestire il dolore dei propri pazienti spinti anche da servizi dei media e da articoli di giornale contro questa loro mancanza una generazione che si appresta a dover affrontare gli acciacchi del tempo e un nuovo medicinale che l'FDA aveva certificato non creare dipendenza allo stesso livello degli altri antidolorifici fino a quel momento in commercio questo è l'assunto di partenza da cui parte DOPSIC che cerca di presentare al pubblico una vera e propria piaga sociale affrontandola da più punti di vista quello medico rappresentato da Michael Keaton quello della giustizia rappresentato da Peter Sarsgaard e Rosario Dawson e quello diciamo capitalistico rappresentato da Michael Sturberg ok Michael Keaton era fatto Bergman dove non stava a postissimo con il cervello qui cosa fa è dottore è derogato è vittima è carnefice allora in DOPSIC Michael Keaton interpreta il dottor Samuel Phoenix parte come dottore quindi che aiuta la piccola cittadina in cui si trova il problema è che a un certo punto lui stesso comincia a soffrire di questi dolori cronici che lui solitamente cercava di combattere nei propri pazienti dando l'oxicontin la sede segue il suo progressivo crollo verso la totale dipendenza dal medicinale esattamente come i suoi stessi pazienti la sede quindi è totalmente basata su questo medici che scoprono questo medicinale quindi pensando di aiutare i propri pazienti lo somministrano nella totale inconsapevolezza del danno che stanno effettivamente facendo persone che lo assumono c'è anche questo aspetto quindi dalla vita normale che hanno cominciano a diventare dei veri e propri tossicodipendenti e l'altro lato ancora è Michael Sturberg per esempio che è Richard Sackler che è il proprietario di Purdue Pharma vede schizzare le vendite a livelli mai visti danneggiando però l'intera popolazione Purdue Pharma si è arricchita pesantemente nel corso degli anni sulle spalle di tutte queste persone a danno di queste persone l'impoverimento e il degrado sociale che l'oxicontin porta all'interno del tessuto sociale americano è incredibile ed è portato in scena molto bene la serie è molto pesante da vedere perché racconta uno spaccato di vita che è presente ancora al giorno d'oggi ma che difficilmente si sente nominare quando si parla dei problemi in America solitamente si riduce il problema della droga nei ghetti o nei soborchi giustamente Francesco Costa nel suo podcast parla di questa crisi degli opioidi come una crisi grave di cui non si è mai parlato mi è capitato di leggere questa estate il suo libro questa è l'America in cui parla di questo problema evidente in America della crisi degli opioidi lui l'analizza dando molti dati ed è un problema che io personalmente prima di leggere il suo libro non avevo mai neanche sentito nominare non so voi non direttamente ovviamente perché non vivo negli Stati Uniti ma sai nelle serie tv capita spesso che c'è il personaggio che è in cerca di questo famigerato barattolo arancione fanno di tutto per andare negli ospedali e farsi dare questa dose in più di ossicodone quindi ho capito il livello di dipendenza non mi è ancora arrivato perché non ho anche visto la serie e non ho sperimentato in prima persona di tutto non mi è ancora arrivato questo impatto questo impoverimento sociale questo degrado sociale e così via probabilmente avere uno spaccato un po' più preciso o documentaristico di questa cosa bisognerebbe guardare anche The Crime of the Century che è sempre un documentario HBO sulla sempre questa questione giusto per dare una dimensione a questa crisi che ripeto da noi non è percepita e non è un argomento di conversazione quando si parla degli Stati Uniti però Francesco Costa nel suo libro riportava per esempio che prima del 1980 le persone che hanno iniziato a fare uso di eroina erano al 50% bianchi e al 50% neri dopo il 1980 chi comincia a fare uso di eroina è al 90% bianco quindi diciamo che è anche specifico qual è la classe sociale che viene attaccata diciamo da questo impoverimento sociale quindi sono le persone che hanno un determinato tipo di problema cronico di dolore e a cui il medico somministra l'oxicontin piccolo passo indietro il problema degli antidolorifici è il rischio di dipendenza il problema dell'oxicontin è che quando viene commercializzato nel 1996 riceve il semafro verde dall'FDA quindi viene commercializzato come un medicinale che non poteva creare dipendenza quindi chiaramente il medico sapendo tutto il pregresso degli altri medicinali che possono creare problemi eccetera ovviamente dà priorità alla vendita di questo medicinale quindi il problema era si Purdue Pharma ha creato questo farmaco e ha prodotto questo farmaco mettendolo in vendita ma è anche colpa dell'FDA che ha permesso questa cosa e da qui c'è tutta la storia del perché FDA non l'ha bloccato da una parte cattivi dall'altra parte ci sono i buoni e in mezzo ovviamente c'è il povero paziente di turno che si ritrova in una storia più grande di lui da cui non è in grado di uscire Dulcis in fondo visto che trattiamo solo serie che hanno un titolo brevissimo quindi dopo Halston e Dobsek la mia è Evil per gli amici italiani Evil esatto che preferisco quindi per me sarà Evil è una serie dei coniugi king Robert e Michelle gli stessi di The Good Wife gli stessi di The Good Fight gli stessi anche della dimenticata ma bellissima Brain Dead che consiglio confermo da quelle cancellazioni oscene ingiustissime proprio ingiustissime quindi coniugi king che qui sforgono una serie tv dalla vita molto travagliata perché siamo alla seconda stagione rinnovata per una terza ma la prima stagionata in onda con i suoi 13 episodi su CBS ascolti tutto sommato sfortunatamente non degni di un rinnovo fatalità allo stesso tempo Paramount Plus che è la stessa casa di Yellowstone di 1883 avrà bisogno di altre serie quindi ha preso Evil e l'ha rinnovato per una seconda e poi per una terza stagione tanto le fanno fare tutte i loro sheridan non c'è problema anche se perdono uno sceneggiatore te lo riuscire e lo mettono qua a scrivere qualcosa sì esatto i protagonisti sono Luke Cage ovvero Mike Colter che qui interpreta un aspirante prete chiamato David Acosta un aspirante prete che sta studiando per fare l'esorcista c'è Katia Herbers la tizia di Westworld corretto e c'è Asif Manvi che non mi dice assolutamente niente del nome non ha non ha una carriera molto famosa e alla fine anche tale Benjamin Linus di Lost chiamato al secolo Michael Emerson qui bravissimo conosciuto anche come l'enichimista con la sua faccia a forma di uovo e questi occhi che escono fuori dalle orbite questi occhi azzurri che escono fuori dalle orbite che ti incutono questo non so che di incertezza cosa vuole questo uomo mi decide mi ama è semplicemente pazzo non so all'interno di Evil funziona benissimo perché interpreta il ruolo del Dr. Leland Thousand villain della serie che strano che gli fanno fare il villain ma funziona benissimo cioè la serie la serie merita solo per lui no non solo però lui tanta roba sfruttato abbastanza male nella seconda stagione devo dire però nella prima è il massimo che si può richiedere comunque di cosa tratta la serie è una specie di procedurale che però ha una trama orizzontale piuttosto interessante sono casi del giorno basati su fatti non scientificamente probabili fatti che in questo trio di protagonisti quindi Luke Cage l'attrice di Westworld e l'altro attore che nessuno conosce che qui interpretano rispettivamente un aspirante prete esorcista una psichiatra e un esperto informatico che strano è l'indiano questo esatto cazzo è vabbè luogo comune sì un po' sì vengono soldati della chiesa cattolica per confutare o confermare che questi casi al limite tra scienza e misticismo religioso siano corretti o siano veri in tutto ciò c'è una trama orizzontale che sorge lentamente nel corso degli episodi ma pian piano anche nella seconda stagione diventa preponderante molto bello la cosa che piace di più in assoluto è questo dualismo tra fede e scienza che ancora qui citiamo Lost mi ricorda molto questa scelta che viene data allo spettatore senza spiegarlo ciascuno può vedere la puntata vedere il caso del giorno e viene sballottato da sinistra a destra da un momento pensi che no questa cosa è sicuramente inspiegabile in un altro momento pensi ok questo è spiegabile scientificamente e poi ogni puntata viene lasciato lo spettatore la possibilità di scegliere se credere o non credere a questi fatti quindi è meno simile a fringe cioè nel senso non ci sono casi simili a fringe no non ci sono casi simili a fringe però diciamo che il formato è simile perché fringe poi si ricollegava con un'altra realtà qui invece si ricollega a una sorta di senza spoilerare troppo una sorta di ascesa dell'anticristo comunque il fatto che lasci una libera scelta allo spettatore di decidere se credere cioè se essere un uomo di fede o essere un uomo di scienza mi ricorda molto vecchie stagioni di X-Files quando non c'era la questione di fede o scienza ma c'era molto più il inspiegabile e quindi c'era Fox Mulder oppure c'era Donna Skelly che era la donna di scienza la dottoressa che doveva assolutamente trovare una spiegazione tutto quello che accadeva tra l'altro quante volte succede qualcosa a Skelly e inspiegabilmente lei comincia a rifiutare come se non fosse realmente accaduto come se fosse una coincidenza no ma no perché potrebbe essere che ma che cazzo non hai visto che c'era un Cristo di uomo lupo attaccato alla mia schiena no no perché potrebbe essere sai che quello dopo un po' onesto mi ha mi ha un pochettino stufato a lungo andare questa contrapposizione proprio di fronte all'evidenza ho capito che è strano ma stai seguendo gli X-Files cosa pensavi di trovare io questo che mi sono sempre chiesto e ogni volta l'altro che dice no ma hai visto che questo no che non lo puoi provare mi dispiace Mulder va bene ok capisco il fatto che a lungo andare possa dar fastidio quello sicuramente però lentamente anche lei comincia a crederci meno dopo è lei la prima che entra in contatto con degli alieni eccetera eccetera quindi la cosa va scemando e spesso viene detto che Fringe è in chiave moderna anche io lo dico spesso e volentieri che Fringe è in chiave moderna quello che è stato X-Files a livello di fantascientifico per la gestione dei casi eccetera anche se dopo Fringe ha preso tutta un'altra piega con linee temporali eccetera eccetera ma Fringe aveva anche più una struttura orizzontale mentre X-Files era praticamente solo verticale se vai a vedere le puntate dove diciamo la trama progredisce in X-Files saranno 4-5 puntate massimo a stagione su stagioni da 22-24 episodi le famose puntate della mitologia si si tolte quelle tutto il resto invece però sono delle belle puntate cioè nel senso sono delle belle puntate da vedere ancora oggi assolutamente ma perché hanno sbagliato loro a non puntare tanto su quello piuttosto che sul diciamo procedurale però quei tempi erano diversi cioè quasi tutte le sere finivano per essere procedurali o composte più da filler che da altro anche perché fa le 22-24 puntate a stagione rimanendo originale vispo eh sì hanno cercato di prendere quello che era dei Twilight Zone quindi puntate ai limiti della realtà diciamo hanno cercato di metterli in una base e l'hanno riadattato come serie se tu mi dici che Evil è così allora potrebbe essere strutturato simile ma c'è più similitudini tra X-Files e Evil che tra X-Files e Fringe lo collego di più a X-Files un po' mi piace mi piace questa cosa interessante consigliatissimo vabbè detto questo direi che anche per oggi abbiamo finito con Aldo che sta cadendo dalla sedia spiunzato lo schifo più che altro sembrava stesse godendo per quel secondo se ho sentito quel sì di sottofondo e che dire facciamo uno spoiler per la prossima puntata che per la prima volta non sarà su una serie tv né su un film ma su un anime ah non diciamo però su quale anime One Piece Sailor Moon Pokemon eh Pokemon anime ne so poco non lo seguo tanto sono più per i giochi lo diciamo in giapponese faccio l'accento svedese fantastico ma lei Shingeki no Kojin ci sentiamo per la 1 per 11 un saluto da Berlino da Edimburgo e da Brescia provincia provincia di Brescia provincia della città che è gemellata con Shenzhen avendo in comune la nebbia e l'inquinamento congratulazioni penso soltanto l'inquinamento però leggevo che è la Silicon Valley della Cina Shenzhen più o meno con Brescia siamo lì siamo la Silicon Valley della Lombardia noi continuo a ripetertelo vai però ecco se tu Fede invece mi dici che evil 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 in inglese evil evil in italiano evil you know that gets funnier every time you're being sarcastic but I think it does actually get funnier every time you you you